Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Veri ASMR Io sono Federica, per chi non mi conosce ancora e questo è un video ASMR, spero rilassate In realtà è una challenge, quindi una sfida ideata da G.P. ASMR e io sono stata invitata a raccogliere la sfida da Margherita Savelli che saluto, ciao Marghe Questa sfida consiste nel provare a farti rilassare senza l'utilizzo di un microfono quindi siamo in un clima assolutamente lo-fi e ci proverò ho scelto in particolare di dedicarmi ad un facial trigger perché se l'audio non potrà essere dei migliori almeno vorrei concentrarmi sui movimenti lenti che forse riusciranno a farti rilassare non so se vincerò la sfida fammelo sapere giù nei commenti e naturalmente prima di iniziare se questa idea ti piace fammelo sapere lasciando un like di supporto e iscriviti se non sei ancora tra le fatine e gli effetti a questo canale cliccando il pulsante qui sotto e schiacciando la campanellina per non perdere i prossimi video sicuramente rilassanti detto questo non ci resta che iniziare ecco ecco sì allora mi voglio prendere un po' cura del tuo viso con del brushing innanzitutto questo pennello è uno dei miei preferiti e infatti lo porto molto spesso sul canale perchè è molto morbido e le sue sedole sono di guanda lilla mischiato con il rosa e l'azzurro che mi rilasso moltissimo vedi adoro questo pennello guarda guarda se guardi attentamente tra le sedole potrai scorgere tutti i colori che che lo compongono mi sembra ci sia addirittura del verde e alcuni punti è vero? questo questo è il mio pennello unicornoso che utilizzo per il trucco ma ho anche i famosi pennelli a sirena anche quelli li porto molto spesso sul canale e fanno un bel suono se toccati sul manico a proposito di manico ti sembra che i colori di questo siano caccianti? così vanno dall'azzurro al verde al rosa al giallo ma non ci perdiamo in chiacchiere lo scopo di questo video è farti rilassare e io voglio provarci facendoti un po' di solletico sul viso con il mio pennello senti come sono morbide le sedole come sono morbide le sedole è come ricevere una carenza sul volto e si 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 e adesso adesso body and movements su movimenti delle varie le 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 tante carenze le sulle 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 per glielo con un pezzo mi raccoro sempre 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 preghiazi richiesti soprattutto su Instagram a proposito seguimi anche lì quello è il luogo dove di solito pubblico un po' di aggiornamenti sulla mia vita e parlo più direttamente con molti di voi perchè mi ascolto la pubblica ho voluto molti messaggi facciamo anche un po' di tracing che cosa ha scritto? vediamo se riesce a indovinare tutte le parole è indovinato vediamo la altra parábola ah sì che cosa ha scritto? che cosa ha scritto? è l'ultima hai indovinato? scrivilo nei commenti vorrei anche sapere se per te è importante che i video ASMR abbiano una buona qualità audio per me lo è tantissimo e infatti questa sfida è davvero pazzesca per me ma spero di riuscire a rilassarti spero che in questo momento i tuoi occhi si stiano chiudendo piano 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 e per concludere questo video faccio un po' di inaudible intanto con l'inaudible whispering non è importante comprendere quello che sto dicendo non si devono sentire le parole quindi spero che possa essere valorizzato dall'audio integrato della mia videocamera e la mia videocamera di rischio con rischio rischio di rischio di rischio di rischio non ti resta che farmi sapere qui giù nei commenti se sono riuscita a vincere la sfida grazie a Margherita Sovelli per avermela lanciata e noi ci vediamo come al solito se ti va nel prossimo video non dimenticare di lasciare il mio piace e di iscriverti se non l'ho già fatto bacini fatosi e buonanotte adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah, e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte ok Grazie a tutti